Ciao bellissimi, bentornati in un nuovo video di Clash Royale Allora ragazzi, stiamo arrivati qua su Clash Royale Intanto ragazzi ci andiamo a prendere velocissimamente un baule rapidissimo E soprattutto ragazzi per chi non vedo l'ora di sbloccarmi il baule magico Abbiamo due spazi disponibili A posto 50 gemme 1400 monete che fate nei privi Va bene che no 4 giorni e 19 ore alla fine stagione Ragazzi stagione siamo andati così col pass eccetera eccetera Un meccettino ragazzi dai Bel meccetto ragazzi che muoio un po' Facciamo un bel meccettino su Clash Royale bello rapido E così Ma che cazzo di deco? No le avevo sbagliato pure deco Cimiterro Mi sto pure male perché attiva torre Questo qua è pure un 2.6 Tappararararara No però lo so usare questo qua il 2.6 Non come mi sto scemo Però noi andiamo fuori pulizia Ok va bene E dovremmo tirare due hit E dovremmo tirare due hit E dovremmo tirare due hit Ok Biscono lo fare Godo Danni per noi Io qua vado a fare 1 3 L'ho fritto raga L'ho fritto Giocata fantastica E non si è reso lui Continua a giocare Ma io li faccio così Oh 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 Regà Oh 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 Che sta a fa Ma stai bene o stai male? Non mi capispe? Stai a fregatorre Sto bastino regà E poi non scemo neanche proprio Il 2.6 Perchè Ah Perchè si vede che non c'è il tronco Cioè ma che parliamo a fare Ma queste partite Riga dai Sono pure belle soddisfacenti Sono divertenti dai Che vuole fare più Cos'è che vuole fare in più Ah si vuole più alla torre Fratello Mitra Ma chi è sto ice cream Vabbò almeno ti sei piaciuto torre Dai Riga dai Almeno ti sei piaciuto torre dai Let's go 30 coppe portate a casa Non vi do l'ora di arrivare a 4000 5 corone più 2 sono 7 corone Andiamo a fare addirittura la soia 44 Codo come un riccio Gaccia del doppio Richiedi carta e clan Lo andiamo a fare immediatamente Andiamo a regredire la carta e clan Caso qua tutto quanto ok Quindi andiamo a prendere questo E conclusione al video Ci andiamo a aprire E per concludere il video Anche ci andiamo a aprire Un baule Stendardo Porcatello Ma che è questo porcatello raga E che usa la Porcatello Eccolo qua Mi sa che me lo metto Salva Ok ragazzi Ci abbiamo il porcatello Bellissimo Ciao belli Ciao ciao Ci vediamo Like iscrizione e campanella Ciao 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 Like iscrizione e campanella